In Indonesia 2000 soccorritori sono al lavoro dopo la frana che ha colpito Java, 76 sono ancora dispersi. È salito a 32 morti il bilancio delle vittime, 15 sono i feriti, in centinaia, senza un'abitazione. La frana è avvenuta venerdì scorso 12 dicembre a causa delle forti piogge nel villaggio di Jemlung, nel centro dell'isola.